In quell'anno lì arrivò anche l'ora del debutto di Serie A. Carmelo è stata una speranza del calcio. In quell'anno viste molto bene, con Bosco. Mi piaceva avvertire di sentirsi quasi fuori posto, diciamo perché poi parlano così di me. Sapeva che i valori veri della vita sono altri, non è il successo, la popolarità. Vedere mio fratello a casa, non vedevo quello che la televisione raccontava. Grazie a tutti.